Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un nuovo prodotto firmato Morpilot si tratta di un due in uno, non solo una lampada ma anche una lanterna in effetti tramite questo manico in silicone che troviamo sulla parte laterale la possiamo utilizzare come lampada in qualsiasi situazione di emergenza se poi andiamo ad aprire diventa invece una lanterna molto comoda devo dire che il materiale di costruzione è molto resistente ed è fatta veramente molto bene ha una luminosità di 300 lumen e un raggio di luce a 360 gradi tramite il pulsante che troviamo qui sulla parte anteriore possiamo gestire le varie luminosità quindi andiamo a vedere un po' insieme com'è che funziona cliccando una volta avremo la massima intensità nel momento in cui la utilizziamo come lampada con un secondo clic l'intensità diminuisce un terzo clic abbiamo lo stroboscopico un quarto clic serve quindi a chiudere completamente la luce nel momento in cui andiamo a cliccare per qualche secondo in più andiamo quindi ad utilizzare la parte superiore quindi la lanterna come vedete si accende la luminosità intensa cliccando un'altra volta la luminosità diminuisce la terza volta andiamo a spegnere se invece in questo momento andiamo a cliccare per qualche secondo in più diventa la luce rossa lampeggiante un'altra volta la luce lampeggia in modo diverso quindi utile anche per un SOS nel caso in cui abbiamo bisogno di aiuto quando restiamo in panne con la macchina per strada un terzo clic serve quindi a chiudere come vedete quindi veramente un prodotto facilissimo da utilizzare ottimo come qualità di materiale e a un prezzo che direi veramente molto molto conveniente ve lo consiglio andate a dare un'occhiata ciao e alla prossima